Cenere, fumo, alberi e piante carbonizzati. Quello che resta a Barano, nei luoghi colpiti dagli ultimi incendi, sembra un paesaggio infernale che mostra chiaramente le ferite del fuoco, ma non solo. Nell'ultimo rogo che si è verificato sull'isola d'Ischia, ci sono volute circa 18 ore per spegnere le fiamme. Tre elicotteri, uno schieramento di vigili del fuoco, volontari della Forio CB ed anche diverse persone comuni, preoccupate per il prolungarsi delle operazioni di spegnimento con migliaia di litri di acqua di mare buttati sulle colline in fiamme per la disperazione dei contadini. Se da un lato questa tecnica è l'unica che sulla carta permetta un intervento risolutivo, dall'altro acqua di mare significa anche sale, un male per le colture, gli alberi da frutto e i vigneti. Vista l'evidente matrice dolosa dell'evento, sono partite le indagini dei carabinieri di Barano che dovranno cercare di trovare un responsabile per questo ennesimo scandalo ambientale. Dalla denuncia pubblica fatta alla nostra emittente da un volontario della protezione civile è emerso che non si tratterebbe di un solo piromane a rendersi protagonista di questi atti criminali ma di un gruppo di persone in combutta tra loro. Questa di una banda di piromani è una teoria che trova un riscontro anche nell'ultimo incendio nel comune di Barano dove le fiamme sono iniziate in tempi diversi in più punti il che potrebbe confermare questa scuola di pensiero. Al di là di quanti siano a commettere questo tipo di reati salta all'occhio ancora una volta l'incubo dell'impunità che accompagna ognuna di queste tragedie insieme ai dubbi sulle strategie messe in campo per arginare o contenere questo tipo di problemi strategie che alla prova della storia paiono assolutamente inadatte, ammesso che esistano.